Ciao a tutti, vediamo in questo video 7 cose che fanno innamorare un uomo profondamente Firmato Massimo Tramasco Allora, vediamo quali sono 7 cose che fanno innamorare un uomo profondamente Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella Così riceverai la notifica dei nuovi video Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale Su TikTok e su tutti i miei canali YouTube Vediamo quali sono 7 cose che fanno innamorare un uomo profondamente Allora, la prima cosa è creare, anche se sembra strano, un desiderio intenso Perché questo è la, come dire, non è quello che lo fa innamorare Ma è ciò che lo aggancia Perché gli uomini sono creature visive Sono creature, come dire, rispetto alle donne Un po' come nei motori, no? Sono dei motori benzina Mentre le donne sono dei motori diesel, se vogliamo Cioè l'uomo vuole partire in quarta nel sesso E poi si esaurisce subito, però Mentre una donna parte molto più lentamente Ma piano piano cresce E di fatti poi alla fine Nel tempo, nelle erozioni di coppia Di solito sono le donne che si lamentano Sull'inefficienza maschile E sulla mancanza magari di desiderio Perché inizialmente il desiderio è molto forte E poi dopo diminuisce Poi per la fisiologia In effetti Osho diceva Che la vera creatura sessuale È la donna, non l'uomo E quindi questa è un po' la prima cosa Però all'inizio il maschio va stimolato Col desiderio Va stimolato sessualmente Quindi ovviamente essendo visivo Devi, come ho detto in tanti video Devi utilizzare sapientemente la femminilità Qua c'è un, come dire Un discorso da fare Che devi essere sensuale, seducente Non volgare Perché sennò innesca meccanismi di difesa Viene etichettata come mignotone da corsa E questo ovviamente non va bene Perché il maschio Se viene etichettato come mignotone da corsa Si sgancia Quindi no, negativo assolutamente Però è molto importante invece Essere femminile, sensuale, seducente Per poterlo coinvolgere Utilizzare il ti vedo o non ti vedo Utilizzare il, diciamo, il contatto fisico casuale Insomma, tutta una serie Di accorgimenti che fanno sì che quest'uomo Proverà un desiderio intenso per te Ed è il punto di partenza Dopodiché devi creare una connessione emotiva profonda Secondo punto Questo è abbastanza semplice Fallo parlare Perché se tu lo fai parlare Delle sue sofferenze Dei suoi vissuti Di quello che ha patito Insomma Se lo fai parlare di queste cose Tendenzialmente tenderà ad agganciarsi Perché è come se tu gli fornissi Diciamo delle emozioni Che lui identifica Identifica te come Con lei che ha prodotto tali emozioni Con lei che ha gestito tali emozioni Quindi questo è un po' il concetto di fondo Se tu ti fai percepire come una donna Come possiamo dire Se tu ti fai percepire come una donna Che gli dà delle emozioni Questo lo porterà ad innamorarsi Quindi fallo parlare Soprattutto fai la classica domanda Ma dai raccontami una cosa bella Una cosa brutta Che ti è capitato In modo tale che lui Tiri fuori emozioni positive o negative Ma sempre emozioni Di fatto tira fuori Un'altra Il terzo punto è Fallo da un lato sentire E' mascolino Diciamo Ma ogni tanto Penalizza un po' La sua virilità Il suo orgoglio di maschio Perché Questo lo stuzzicherà A fare qualcosa in più per te Molto importante Questo terzo punto Molto importante Questo terzo punto Perché si coinvolge E poi Il quarto punto È fondamentale Rendilo un fornitore di servizi Un erogatore di servizi Cioè Fagli fare degli investimenti su di te Eh sì Guarda Mi piacerebbe tanto Uscire con te domani Guarda Sono senza macchina Qua là E sono un po' lontana Se mi viene a prendere Mi riporti E magari li fai sparare Che ne so 50 km andare 50 km a venire Insomma O quello che è Insomma Gli fai Con delle scuse Lo fai investire su di te Tieni presente Che questo È fondamentale Perché è una persona Più investe Più si coinvolge L'investimento di energie Di tempo Di danaro Ti farà percepire Tra l'altro Anche come una donna Di alto valore Quindi Farà sì che si coinvolgerà Anche molto Molto Rapidamente E questo Secondo me È un altro punto Veramente importante Un'altra cosa Molto importante Che puoi fare Questo quarto punto È fondamentale Il quinto punto È Diciamo Accettalo Per quello che è Questo lo fa innamorare Perché se tu cerchi di cambiarlo Il maschio va sulle sue Poi magari In un secondo tempo In qualche modo Ma Per cosa fondamentale Devi accettarlo Per quello che è Se lo accetti Per quello che è Lui tenderà Ad innamorarsi Se tu lo accetti Per quello che è Tenderà A coinvolgersi Sembra strano Ma posso garantirti Che le cose stanno Esattamente In questi termini Quindi deve Come dire Sentire Che c'è un'accettazione Da parte tua Molto importante Anche questa cosa Posso dirti Che è veramente Un aspetto fondamentale Da prendere in considerazione E il sesto punto Dimostra Di fidarti di lui Almeno in primi stanza Perché Questo gratifica molto La sfera logica e razionale Perché Nessun uomo Vorrebbe una donna Malfidente Che non si fida Che Che si sgancia Che È controllora È possessiva Gelosa È veramente importante Questo Nella seduzione Nell'innamoramento È veramente fondamentale Se tu riesci A usare Queste strategie Vedrai che riuscirai A cogliere Nel segno E nel tempo Veramente Farli innamorare Profondamente È una cosa Che lo fai Innamorare Profondamente E poi L'ultima cosa Incoraggio Nei suoi obiettivi Mai ostacolarlo Deve percepire Che tu sei Dalla sua parte Perché Questo È un altro Appunto Un altro aspetto Fondamentale Se capisci Che tu sei Dalla sua parte Tenderà A A desiderarti Tenderà a vederti Come la donna Giusta Ecco Queste sono Sette cose Che fanno Innamorare Profondamente Un uomo Utilizzale Perché Ti daranno Dei grandi risultati Bene Per questo video è tutto Seguimi su Instagram Massimo Terramasco Ufficiale Su TikTok E ovviamente Su tutti i miei canali YouTube Ti ricordo Di attivare La campanella Così riceverai La notifica Dei nuovi video Per questo video è tutto Bisogna